D'Orelick ha colpito di nuovo. Il terrore regna sulla costa azzurra. Conosco questa risata, signori. Nessuno può fermare D'Orelick. Allora non ci sposeremo mai. Quando avrò un miliardo? Un miliardo. Di dollari? In oro. Annunci economici? Vuoi scrivere per favore? Quanto prende a omicidio? Quello che lei mi chiede è un massacro. Crimini, omicidi e delici compionsi ovunque, d'abile, sperimentato, delinquente. Poco! Un facciacane! Venite, bambini. Aspetta il balcone che ingroppa il ciclo. Gana a paese molto lontano, strega. Quale du po'. Ho preso la vita dura, scegliendo me. Ma i bambini che dico, ti fa morire. Arrendermi! Allegato numero uno, ripeto, a colui che sopravviverà. Salterò giù silenzioso come un gatto. Il che volevi uccidere, vero? Sì, nella villa del signor Vladivino di Polo. Sto rilasciando la signorina, non abbiamo nessuna prova contro di lei. Sì, sono qui. È finita per te. Sì, è finita per te.